ciao a tutti bentornati su fortnite oggi accendo fortnite mi ritrovo questa bellissima sorpresa ma non ve l'aspettavo proprio perché sono molto lieto di questo questo regalo non ho fatto niente per ottenerlo bellissimo è potentissimo andromeda l'avete ricevuto anche voi fatemelo sapere nei commenti ciao a tutti e bella lì